Cicco Medres era un seringheros, un raccoglitore di gauciù nelle foreste della Mandonia, poi divenne un politico e un sindacalista. Era uno con la schiena dritta che tentò fino all'ultimo di lottare per preservare i territori della Mandonia degli indios, che erano i loro territori, per difendere il diritto al lavoro e per difendere la foresta, non solo per l'indios, ma per tutti i loro. Come tanti sindacalisti venne ucciso e come tante persone uccise, costruito e i nomi sembrano ricordati pochi anni dopo. Questa ricorda di Cicco. Cicco Medres! Cicco Medres! Cicco Medres! Cicco Medres! Grazie! Grazie!